Sono iniziate le procedure legate alla richiesta di asilo politico in Grecia per gli otto militari fuggiti dalla Turchia dopo il fallito colpo di Stato di luglio. Arrivati in Grecia con un elicottero militare, i fuggitivi sono stati condannati a due mesi per ingresso illegale nel paese. Loro temono per la loro vita e per le torture a cui potrebbero essere sottoposti se tornassero in Turchia. Hanno anche paura che la proposta del presidente Erdogan dell'introdurre la pena di morte venga approvata dal Parlamento. Dall'esito del procedimento per la concessione eventuale dell'asilo politico dipende il futuro degli otto militari. Le autorità turche dal canto loro hanno già presentato richiesta di estradizione per quelli che definiscono terroristi e traditori. Grazie. 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 Grazie.